Musica Amici sportivi di Radio Epicentro, siamo con coach Angelo Vannini che quest'oggi ha seguito la partita tra Sporting Club Asciano contro Sinalonga Volley dalla tribuna vista la squadrifica rimediata lo scorso anno nella semifinale di playoff, poi sappiamo tutti com'è andata. Mister, oggi la partita? Allora oggi la partita era complicata, molto complicata perché era la prima dell'anno e la prima partita dell'anno è sempre complicata perché l'avversario non lo conoscevamo anche se era un avversario che ci abbiamo giocato ma c'erano un sacco di facce nuove e infatti ci hanno messo in difficoltà alla fine le nuove, poi perché noi siamo una squadra rodata ma che ci aveva ancora da riprendere bene il ritmo partita invece siamo partiti bene, abbiamo preso tre punti, è stata una partita particolare, tutti i sette non riuscivamo a ingranare poi piano piano si partiva però insomma quello che si doveva vedere io penso che si sia visto, si è data una bella prova di forza quando si decide di giocare, quando si prende il ritmo, quando si fa quello che si sa fare per questo livello siamo davvero una bella squadra questo le ragazze lo devono sapere. Ecco, proprio hai detto una precisazione che abbiamo faticato perlomeno nei primi tre set di ingranare effettivamente la Sinalonga è migliorata molto personalmente dal mio punto di vista rispetto alla squadra dello scorso anno quindi secondo me farà un gran campionato. Abbiamo faticato ad ingranare, i primi due set sono andati bene il terzo invece non siamo riusciti poi nel stare nella scia della Sinalonga il quarto set invece cosa è cambiato, che siamo partiti meglio? Allora, purtroppo quando parti male e giochi a rincorrere è normale che se poi trovi un break che ti va male fra l'altro particolarmente sfortunato perché c'era il centrale di lambattuta quindi non c'era il libero quindi sicuramente era un break che dovevamo prendere noi di vantaggio invece abbiamo preso 6-7 punti di fila poi se la reazione ce l'hai sul 24-17 diventa un po' complicato, ci provi, siamo arrivati a 20-21 non me lo ricordo però diventa complicato. Il quarto set ci ha servito da sveglia, cioè il terzo ci ha servito da sveglia per il quarto in quarto siamo partiti forti e non ci hanno più ripreso. Un calo di tensione, stava 19-10 per noi ci siamo fatti riprendere sul 19-17, questo non deve accadere, l'abbiamo pensata già vinta loro sono state brave, loro sono d'accordo con te, faranno sicuramente un bellissimo campionato probabilmente arriveranno un po' più su rispetto all'anno scorso. È un bene averle trovate ora perché piano piano ingraneranno, troveranno l'amalgama, è un bene averle trovate ora hanno i classici problemi delle squadre che si stanno trovando, questo per noi è un vantaggio e quindi benissimo aver preso tre punti sarà veramente difficile prenderli quando andremo là. Ecco, prossimo match invece? Prossimo match col Petriccio. Quindi subito altro test importante? Subito, subito altro test importante, loro hanno vinto 3-0 fuori casa, Sarteano giocheremo nella loro palestra storica che è piccola, noi non siamo abituati a giocare nelle palestre piccole. Sarà una partita complicata, loro sono più o meno le stesse dell'anno scorso, hanno fatto un paio di cambi ma più o meno rimangono quelle, sono una squadra tosta, sono una squadra ben messa in campo che sa attaccare, sa difendere, sa battere, sarà veramente problematica. Però ci prepareremo, abbiamo una settimana e mezzo di tempo, ci prepareremo alla grande e andremo a fare la nostra partita senza guardare in faccia nessuno, questo ne sono convinto. Perfetto, ringraziamo Angelo Vannini e ti auguriamo un in bocca al lupo per il prossimo match. Grazie mille a voi, come sempre io vi ringrazio tantissimo. Grazie mille a voi, come sempre io vi ringrazio tantissimo. Grazie mille a voi, come sempre io vi ringrazio tantissimo. Grazie mille a voi, come sempre io vi ringrazio tantissimo. Grazie mille a voi, come sempre io vi ringrazio tantissimo. Grazie mille a voi, come sempre io vi ringrazio tantissimo. Grazie mille a voi, come sempre io vi ringrazio tantissimo. Grazie mille a voi, come sempre io vi ringrazio tantissimo. Grazie mille a voi, come sempre io vi ringrazio tantissimo.